Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Giglio e oggi siamo qui Ritornati su Fortnite il giorno dopo del mio compleanno in realtà Perché noi stiamo registrando il giorno del mio compleanno, ovvero il 18 marzo Voi lo vedrete il 19 marzo perché ovviamente la mia ragazza al regalo me l'ha dato il 18 marzo E quando te lo dovrete dare, scusa? Appunto, no, appunto, appunto, infatti me l'ha dato il 18, quindi noi oggi stiamo registrando e ve lo vedrete domani Quindi in realtà il mio compleanno appunto era ieri Quindi, ci ha shoppato questi 2800 V-Bucks Quanti sono? Sono pochi, non lo capisco Ma come non lo capisci? Ci possiamo andare a prendere due belle skin che tra l'altro ci sono oggi nello shop Tra le altre cose ragazzi, queste skin erano infatti della stagione 9, raga Molte skin della stagione 9 mi mancano perché è stata la stagione in cui avevo un po' smesso di giocare a Fortnite Allora io direi, la resce tra l'altro già ce l'avevo, lol, forse perché la resce a me era piaciuta, boh l'avevo shoppata Ovviamente ragazzi stiamo shoppando col codice supporto a un creatore GGYT, tutto grande, tutto attaccato Nello shop di Fortnite, mi raccomando, non vi sbagliate ragazzi È GGYT, tutto grande, tutto attaccato Se ci shoppate qualcosa, mi raccomando, taggatemi su Instagram, questo qui è il mio profilo Perché aggiungerò tra i miei amici di Fortnite, alcuni voi che lo utilizzeranno Ah comunque raga, se sentite l'audio è diverso dal solito, è che per far sentire anche appunto Serena Sto registrando con un altro microfono Detto questo appunto, andiamo a shoppare queste skin, sia la versione femminile che quella maschile La maschile è più bella Sì, quella maschile è più bella, sono d'accordo con te Però io odio gli anelli E Serena lo sa, io odio da morire gli anelli ragazzi Non lo sa, è una cosa che esteticamente non mi piace E infatti l'anello di questo maschio qui, gli anelli di questa skin qui mi stanno triggerando È questa vero? Sì È infatti mi sta Infatti, cioè raga, questa non mi piace in realtà No, no, quella prendi Eh, prendiamo questa raga, prendiamo quest'altra anche se non è dello stesso set Ma, anzi, in realtà ci si addice pure Cioè ci sta, ci sta anche bene Allora, andiamo a mettere tutto Allora, abbiamo il Facciamoci prima una partita con la femmina a questo punto Vediamo i vari stili Oddio che figata Così Sì, necessariamente, senza maschera è più carina Sì, anche così in realtà non è male Perché boh, con la maschera mi triggera quasi Sembra un maschio Sì, esatto Sì, raga, proviamola così Proviamola così Poi, ovviamente, nella prossima partita andremo ad utilizzare anche il maschio E vediamo se riusciamo a dedicare a Serena una bella vittoria con le skin che abbiamo shoppato con i suoi V-Bucks Mi raccomando ragazzuali Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale perché siamo sempre più vicini ai 100.000 iscritti Mi raccomando fondamentale l'iscrizione al canale e poi raga lasciate like perché comunque è un video speciale del mio compleanno quindi ci sta Ok, raga, allora, noi comunque dobbiamo farci due partite Io direi di farcene una bella cattiva qui a sabbie sudate che penso ci venga un bel po' di gente Anche se comunque vedendo la skin così raga forse è più carina anche pure senza cappuccio Cioè, raga, secondo me questa skin è ancora più carina anche senza cappuccio Ci può stare, ci può stare Allora, comunque come detto Sta venendo un sacco di gente Più di qualcuno sta andando ovviamente anche allo squalo Allora Eh, io me ne andrei come al solito alla gelateria Di solito quando vengo a sabbie sudate me ne vado lì alla gelateria Ok, raga Ok Quello è un fucile a pompa Quello è un fucile a pompa Queste sono delle granate Ah no, sono le mine Cacchio, 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 sono delle mine Da dove? Quella ha anche un pompa blu Madonna 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 L'abbiamo laserato, raga L'abbiamo laserato Comunque anche lui ci ha fatto un bel po' di danno, eh Anche lui ci ha fatto davvero davvero un bel po' di danno, purtroppo Niente, raga Oggi sono abbonato ai mini shield Che per carità, eh Non è male Ma a questo punto avrei preferito uno scudo Uh, quello, quello, quello Ok Ok, vola Mannaggia Oddio, questo qui li ha buildato da dentro? Regà, 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 quanto mi ha tolto? Che pompa hai, bro? Regà, con sto pompa qui, quanto mi ha tolto? What? Ma quanto mi ha tolto con quel pompa lì? No, assurdo, ragazzi I fucili a pompa sono veramente rotti, sto gioco O tolgono troppo O non tolgono niente Ok, regà, allora Quell'altro Eh, vabbè, eh, vabbè Vabbè Eh, vabbè Regà Cioè Mi ha distrutto GG per lui Mi ha distrutto, regà GG per lui Io qua dovevo spregare tutti i materiali Ma dovevo per forza Regà, ci siamo trovati nella stessa stanza Incredibile Madonna mia, regà Assurdo Nella stessa stanza ci siamo ritrovati Pensavo di aver sentito male Invece siamo tutti e due qui LOL Ok, raga L'altra safe è decisamente lontana Ci siamo fatti un bel po' di materiale Più che altro il ferro Dato che c'erano parecchie macchine Autobus e quant'altro Ho preferito farmi Tanto, 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 tanto ferro E adesso vediamo un attimino Di farci un'arri Mentre andiamo in safe Con qualche albero Un po' di legno Regà Oddio, ma che è? Ma 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 What? Cioè, esce Mi sa Che è sceso dall'autobus E poi avrà laggato qualcosa Vabbè, free kill Ma ovviamente non aveva loot Non aveva nulla Quindi Va bene così Ok Ok, distruggere l'elicottero Io un po' di danno gliel'ho fatto Perché tanto sono andato in safe Ok, sta prendendo l'altezza No, non sono riuscito a prenderlo Mannaggia Raga Se c'è pure quell'altro Io me ne vado Se c'è pure quest'altro Con il co... Uh, questo mi puscia Patatou No, mi è entrato Eh, vabbè, raga Oh, ma Niente A me non mi entrano i colpi Contro di questo Ci provo A curarmi Me l'ha preso? No, mi sa di nuovo Mamma mia, assordante l'elicottero Sì, l'elicottero è assordante Infatti non sto capendo lui che cosa sta facendo Né quello con l'elicottero Né quello che mi ha busciato Comunque, regà Vabbè, giusto perché al mio complenno Sono rimasto con uno di vita Ok, mi sono riuscito a mettere il medikit Oh, madonna Ok Ok, purtroppo non ho Non ho esplosivi per questo Niente, sto colpendo il mio ferro Guardalo lì Cioè, ti sto aiutando con quello Niente, lui deve venire a rompere le scatole a me Guardalo E lo so perché gli volevo rompere le scatole anch'io Ma Non pusharmi Sì, la ventana Mannaggia, la miseria Mannaggia, la miseria Questo qua come sta satanato Niente, pure quest'altro non push a me Chiediti bene Grazie Ah, con l'altro se n'è andato Definitivamente No, medikit Aspettate raga, prima di volare mi metto i mini shield Perché se qualcuno mi lasera in volo è finita Me ne vado No, 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 no Frate, frate, basta, basta, basta Dai, facciamo pace, please Cosa avevi detto, eh? Facciamo pace Se qualcuno mi lasera in volo No, sì, sì, ma infatti era tutto calcolato Raga, spero, spero Io spero Spero In tutto Ti prego Ok Ho tutto carico Io me ne vado per la mia strada No, da dubbi Ma dai, ma guarda questo Ma non ci voglio credere Morire così per una cecchina No, raga, no Cioè, raga, dai, ultimamente ci sta dicendo Cioè, prima si è rimasti a uno di vita e ci ha detto fortuna Però così, no, da Vabbè, mettiamo il maschio Allora, io direi di metterlo così Senza maschera, senza niente, raga Che dici? Sì, più bello Vai Sperando che vada un po' meglio quest'altra Mi ricordano un po' i tuoi capelli Sì, dai, un po' sì Ok, raga, vedendo questa qui Senza cappuccio, senza niente Confermo che secondo me anche la femmina Senza cappuccio e senza niente è più carina Probabilmente Raga, il taglio è praticamente lo stesso Però questa volta direi di fare l'agenzia Andiamo cattivissima all'agenzia E vediamo un po' quello che succede Che morirai subito Esatto, moriremo immediatamente Ok, raga, forse riesco a prendermi subito sto fucile a pompa Raga, da dove era spuntato questo? Ah, vediamo dove è Mida Ok, non lo riconosco Niente rip, ragazzi Ma eccolo, eccolo perché non lo vedevo Mannaggia Raga, e che cacchio No, 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 mi sono sbagliato Lascialo giù, lascialo giù E niente Ok 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 Allora, ci prendiamo subito questa roba Mi servirebbe qualche colpo del pompa Lasciotto non ho visto un altro Allora butto questo Raga, lo so che potrei già andare A prendere Il tutto Ma Il lutto Però Ovviamente in questa situazione Non so quanto mi convenga andare già al capo No, eh, mi ha visto Pensavo di aver messo il muro Cioè, pensavo di aver messo la piramide io Invece era la sua Mi ha eliminato XD Claudio Mi ha eliminato XD Claudio, ragazzi Ma pensavo che la Che la piramide fosse la mia, raga Niente, eravamo riusciti pure a prendere Mida Con tutto quanto Niente, raga, niente Eh, oggi è andata così GG per Claudio Niente, raga, dai Spero che Cook e il video vi sia piaciuto Eh, le skin a me piacciono Ribadisco Preferisco un po' la femmina In realtà senza nulla Eccola qui Sì, probabilmente così Fateci sapere sotto nei commenti Voi cosa ne pensate Iscrivetevi al canale Perché siamo sempre più vicini Ai 100.000 iscritti Grazie ancora per tutti gli auguri Che mi avete fatto nel video di ieri Mi raccomando Utilizzate il mio codice supporto In creatore GGYT Tutto grande Tutto attaccato Nello shop di Fortnite E tagcatemi su Instagram Messo qui al mio profilo Perché aggiungerò Tra i miei amici di Fortnite Alcuni voi che lo utilizzeranno Ringrazio ancora La mia fidanzatena Che mi ha regalato Questi V-Bucks E quindi le skin Per noi è tutto Ci vediamo domani Un prossimo video qui sul mio canale Ciao ragazzi Ciao